Ehi la ciurma, io sono Mezzetest e benvenuti in questo episodio Mi hanno mandato un altro gioco Mi sto perdendo anche, si chiama Fur Up E niente, è un giochino così Proviamo un po', devi tipo saltare, tipo un platform che devi saltare Allora, clicca per... Ah, ok Devo muovere il mouse Non è cattiva come cosa Ah, beh dai sì, è un gioco molto sciocco Ma... Non cattivo Ah, prendo dei punti se uccido... Quella gente Nooo Hai il doppio salto Ma sto facendo un sacco di achievement così boh No Ma il fulmine... che cos'era? Boh, un power up tipo Ah, la pecora mi ha ucciso Quindi se li fai cadere ti danno dei punti Ma ecco No, infatti è anche il gallo Ma altrimenti ti uccidono Mi sto già stufando Ma sta saltando da solo sto giro? Ma mi sa di sì Nooo Vabbè, io faccio che... Saltare... Per essere... Eeeh... Nooo 12.143 il punteggio più alto Che ho fatto? Che era quello di prima? Mi sa di sì Vai, sempre più in alto Abbiamo fatto cadere anche una carota, patate New high score, yes Global... Eeeh... Sono centonovantesimo a livello globale Friends Non c'è nessuno che ci gioca, ovviamente Niente Questo era Fur up Eeeh... Io mi invito a lasciare un piaccio Scrivervi Lasciare un commento Eccetera eccetera Mi sa che non c'è Ah... No Multiplayer? Random game Ci sarà qualcuno a giocare? Dubito altamente No, infatti Scusate Eeeh... Niente Come sopra Quindi ciao a tutti Buona giornata Eeeh... Grazie a tutti.